Ministro Lotti oggi a Firenze per la presentazione di un progetto quello della nuova palestra di box ma non solo anche per gli amici della Fiorentina Basket un progetto che diventa sempre più viola sempre più fiorentino che si stringe sempre di più e i fiorentini stessi sentono maggiormente parte della loro città. Come ministro un'occasione per dimostrare quanto l'investimento nel bando sport e periferie sia importante sia importante per la nuova palestra di box che nascerà a pochi metri da qui e come fiorentino un'occasione per fare un in bocca al lupo a tutti gli amici a tante persone che hanno reso questa squadra ancora più competitiva e che hanno stanno provando a riportare il basket che conta a Firenze è un'occasione anche per parlare insieme a loro insieme agli amanti del basket della final eight che abbiamo e stiamo organizzando insieme alla Lega di A a Firenze per il qui dal 15 al 18 di febbraio del prossimo anno insomma una bellissima occasione per poter parlare un po' di basket un po' di sport e un po' per raccontare quali sono i programmi che come governo stiamo mettendo in campo a Firenze e in Toscana ma in tutta l'Italia grazie